buongiorno a tutti lezione numero 20 oggi facciamo una seconda lista della spesa la prima che abbiamo fatto ci serviva per realizzare interfacce grafiche per applicazioni di utilità come il notepad che ci ha accompagnato per diverse lezioni quindi pulsanti menu finestre dialogo eccetera oggi facciamo un'altra lista della spesa che ci serve invece per implementare applicazioni grafiche in senso più generale cioè non necessariamente usanti e menu ma addirittura videogiochi quindi praticamente adesso stiamo scendendo di un livello rispetto il livello di astrazione rispetto a quanto visto fino ad ora cioè quello che vediamo è ma come faccio io a disegnare le cose rinunciando quindi a dei componenti predefiniti come possono essere il pulsante o il menu eccetera quindi vedremo due approcci uno che è proprio quello più di basso livello cioè il q painter immaginate appunto come il paint di windows in cui uno ha una un'area di lavoro che in questo caso è un po troppo piccola per poter essere apprezzata a un'area di lavoro che vuole addirittura ok va beh va perché non ci ho messo accentuale in cui poter selezionare per esempio il tratto il brush il colore del tratto lo spessore del tratto e poi un tratto oppure può inserire del testo oppure oppure insomma tutto quello che si può fare può inserire dei poligoni quindi rettangoli con i bordi arrotondati rettangoli cerchi linee eccetera quello che vediamo adesso è esattamente questo ok l'unica cosa che è comandabile dalla programmazione quindi noi nel codice diciamo cosa disegnare come disegnarlo e questo ci fa capire che possiamo quindi personalizzare gli elementi grafici per esempio possiamo creare un pulsante con i bordi arrotondati con il bordo che ne so nero lo so che non è tanto carino con lo sfondo blu e dentro ci mettiamo un testo un testo che ne so bianco che qua però non è bianco perché bisogna selezionare il colore del testo e vabbè cose di questo tipo quindi quello che stiamo per vedere è il disegno al più basso livello possibile cioè addirittura disegnare i bordi disegnare i riempimenti disegnare proprio da zero le componenti quello che vedremo dopo nella seconda parte dell'elezione di oggi invece è un po più vicino al mondo dei videogiochi e questo lo capiremo a breve quindi intanto vediamo questo cup enter cup enter è una classe che può disegnare quindi come il pente che vi ho fatto vedere di windows può disegnare forme geometriche può disegnare anche immagini e testo supporta funzionalità avanzate di visualizzazione quindi supporta l'anti aliasing che per intenderci e quella funzionalità che ci fa vedere le cose non pixelate nei bordi l'alpha bledding cioè le trasparenze i gradienti i gradienti stanno dappertutto anche nei vostri telefoni quello che vedete qui è un gradiente che va da un tono di blu ad un altro tono di azzurro e che crea questa transizione molto lenta è un effetto di quasi tridimensionalità contrastato invece qui che non c'è nessun gradiente questo è un colore uniforme funzionalità di trasformazione trasformazioni geometriche affini rotazioni traslazioni cambiamenti di scala e non affini quindi deformazioni indotte da cambi vettoriali per esempio l'effetto lente di ingrandimento c'è nella cartella che tutti quanti se avete installato qt avete c'è una cartella examples in questa cartella examples ci sono tutta una serie di mini progetti progetti piccoli che hanno lo scopo di illustrarvi una ad una tutte le possibili cose che si possono fare con tutti per esempio c'è un progetto che si chiama vector deformation che vi fa vedere come implementare una sorta di lente di ingrandimento che voi muovete con il mouse e fa vedere questo effetto pure un altro che vi consente di disegnare con il mouse dei percorsi curvilini o un altro che vi fa vedere come impostare dei gradienti di colore secondo diverse direzionalità in questo caso sono ingredienti circolari ma ci possono essere ingredienti lineari eccetera questi sono soltanto tre esempi veramente se andate in questa cartella ce ne stanno quasi più di un centinaio uno si fa l'idea che con tutti davvero potete fare tutto cioè se voi pensate ma posso fare questo effetto grafico la risposta è sempre sì il problema ovviamente lo sforzo che ci vuole per farlo ma si può assolutamente fare proprio perché cup enter mette a disposizione tutti gli strumenti necessari come se fosse un photoshop pensatelo come un pente un po più potente per per disegnare quello che vi pare cup enter è una classe quindi noi stanziamo oggetti cup enter il costruttore però vuole sempre una tavolozza quindi un po come pente per disegnare ciao questa tavola bianca e la lavagna il cup enter vuole nel costruttore che gli si passi un pente device cos'è il cup enter device e l'oggetto su cui disegnare nel caso nostro cioè noi che implementiamo ne sono lo snake piuttosto che altri giochi abbiamo quindi a che fare con delle q widget la fortuna vuole in realtà ovviamente questa una decisione progettuale q widget è eredita sia da q object e quindi ne prende tutte le caratteristiche di gestione degli eventi si da slot parenti in system introspection tutte quelle cose che abbiamo già visto ma in più q widget e questo è la meraviglia dell'ereditarietà multipla che non esiste in tutti i linguaggi q widget è eredita anche da cup enter device e questo fa sì che io su q widget siccome è un cupente device lo posso passare a cup enter e quindi ci posso disegnare quindi un widget è un oggetto disegnabile e questo è di grande vantaggio perché ci consente di disegnare quello che ci pare nell'interfaccia grafica quindi implementare il nostro pulsante oppure implementare lo snake o implementare qualunque altro videogioco in particolare dov'è che noi andiamo a disegnare nel widget dovremmo andare a fare questa cosa nel metodo paint talent perché perché abbiamo visto dai gestori degli eventi che il paint event è il gestore dell'evento di disegno cioè quando il widget si mostra a schermo oppure anche quando io lo ridimensiono o anche quando lo sposto può capitare anzi capita che questo metodo viene automaticamente invocato perché bisogna ridisegnare i widget allora il ridisegno avviene qua dentro se voi questo non lo reimplementate verrà usato il paint event della super classe quindi se la super classe q push button la super classe dirà qua dentro ci sarà una cosa del tipo se sto su windows faccio così se sto su mac os faccio quelli ma se noi implementiamo paint event e qua dentro non ci mettiamo niente significa che l'oggetto non si disegnerà cioè sarà una tavola bianca o vuota meglio meglio dire e quindi noi qui abbiamo la possibilità di istanziare un disegnato un painter passandogli al costruttore un device su cui disegnare ma il device sono io stesso sono io widget ecco perché iniziano tutti i paint event iniziano tutti con q painter istanziare un oggetto della classe q painter passando al costruttore dis cioè i widget su cui andare a disegnare quindi una volta stabilito dove andare a fare e come andare a disegnare rimane solo da fare questa lista della spesa che posso fare dentro costo peter beh ci sono due famiglie di metodi essenzialmente di peter il metodo di 7 metodo di draw il metodo di set set delle proprietà per esempio appunto immaginate la toolbar del paint immaginate quindi di settare una di quelle funzionalità quindi e stai settando un tratto più spesso o meno spesso vuoi fare un riempimento oppure vuoi metterci nel testo mettere delle texture delle immagini proprietà che rimangono settate fino al set successivo e quindi è proprio come io nel paint l'analogia è assolutamente valida è proprio come quando io seleziono uno strumento e questo strumento rimane finché io continuo a disegnare rimane selezionato quando invece cambio lo strumento faccio un altro set allora questo si ripercuote sulle successive operazioni di disegno esattamente quello che accade qui quindi uno o più set hanno efficacia da quel momento in poi su disegni che si vanno a fare quali disegni quelli che si fanno con i metodi draw quindi i metodi draw disegnano delle cose utilizzando le proprietà settate nelle righe di codice precedente ovviamente anche metodi draw possono avere dei parametri di disegno perché se devo disegnare un punto servirà a capire in quale punto se devo disegnare una linea bisogna specificare due coordinate due coppie di coordinate perché siamo stiamo parlando di disegno bidimensionale attenzione sempre 2d se devo disegnare ne so un arco avrò bisogno di angoli eccetera se devo disegnare un poligono avrò bisogno di una sequenza di punti se devo disegnare un rettangolo avrò bisogno del vertice in alto a sinistra altezza larghezza se un rettangolo con i bordi arrotondati probabilmente mi servirà anche un coefficiente di curvatura per i bordi un ellisse avrò bisogno di larghezza altezza e centro oppure vertice in alto a sinistra del testo vertice in basso a sinistra della immagine vertice in alto a sinistra eccetera eccetera quindi questi sono qui riassunti i principali metodi di disegno che offre qt sembrano pochi ma in realtà con questi ci si può fare tutto cioè voi con questi potete fare anche i videogiochi più più disparati questo perché laddove c'è da mettere una texture ce la mettete laddove dovete fare un oggetto complesso come forma c'è sempre il poligono quindi gli oggetti si possono comunque modellare tramite poligoni anzi è così tutti i videogiochi modellano gli oggetti mediante videogiochi tridimensionali e mediante tessellazioni di triangoli ma alla fine sempre poligoni sono ok quindi metodi draw sono più o meno quelli metodi set ce ne sono diversi i principali li vediamo in questi due slide il set della del tratto pen pen tratto che prende l'ingresso cosa il costruttore della del tratto prende l'ingresso il colore nel tratto lo spessore lo stile del tratto lo stile ci sono due tipi di stile lo stile lo stile del tratto in generale poi c'è lo stile delle estremità e poi c'è lo stile delle giunzioni per intenderci le estremità possono essere rettangolari possono essere un po più lunghe le giunzioni possono essere arrotondate eccetera le invece giunzioni appunto possono essere spigolose oppure possono essere anch'essi arrotondate quindi capite quanto è fine il disegno per quello dicevo è un pente un po più potente cioè vi consente davvero di definire tutte le cose che veramente potete fare quindi lo stile può essere di tipo solid line quindi un tratto continuo tratteggiato puntinato punti tratteggiato di spessore quello che vi pare e di nuovo qui possiamo fare davvero tutto quello che si può fare in un pente che si rispetti poi ci sono riempimenti brush brush immaginato come se fosse un pennello qualcosa che sarebbe per riempire una forma quindi il pen ci darà il contorno quando se noi disegniamo un rettangolo il pen definisce il tratto con cui disegniamo i bordi il brush definisce il riempimento quindi riempimento può essere di tipo continuo di tipo più o meno denso puntinato a linea scacchiera rombi quello dove pare può essere anche invece un'immagine quindi il riempimento può prendere ingresso un'immagine e non uno stile oppure può prendere ingresso un gradiente quindi con questo si fanno i gradienti quando si fa il riempimento si può andare a definire un gradiente di riempimento per esempio in questo caso io questa barra qui che l'ho definita io in powerpoint dove l'ho definita l'ho definita da qualche parte nel tema nel mio tema che mi sono fatto visualizza non mi ricordo manco come andare nel tema schema diapositiva probabilmente qui questo qua questo oggetto qui è un rettangolo che ha un riempimento a gradiente e io sono andato a definire riempimento eccolo qua questi gradienti di riempimento ovviamente questa interfaccia grafica che mi mette a disposizione questi strumenti per definire gradienti noi invece siamo nel codice quindi parliamo comunque di codice successo non voglio ovviamente rovinare il tema il template del delle slide bene una volta che abbiamo definito quindi il tratto e il riempimento poi ci sono una serie di proprietà particolari per esempio settare rendering hint sono le opzioni di rendering grafico per esempio settare l'anti-eliesing attivare l'anti-eliesing oppure l'opacità l'opacità ci consente di creare effetti di trasparenza quindi se state disegnando un oggetto sopra un altro settare nell'opacità diversa da uno compresa tra 0 1 minore di 1 significa che è un po trasparente significa creare un effetto di trasparenza oppure potete settare il background il grano significa tutto quello che c'è di base sulla lavagna su cui disegniamo settare il fondo del testo settare la direzione in cui si disegna il testo e altri set questi non sono tutti i set che ci sono bisogna andare nella documentazione per andare a trovarli ok abbiamo detto più o meno quali sono gli strumenti la cosa però importante che dobbiamo ricordarci e ce ne dobbiamo ricordare domani che facciamo lo snake e qual è il sistema di coordinate con cui noi disegniamo e dobbiamo fare una distinzione questa distinzione ragazzi c'è sia qui nel painter sia dopo nell'altro framework di qt che usiamo che useremo anche per i videogiochi c'è anche in opengl c'è anche in direct x c'è anche in vulcan che sono le tre principali librerie e librerie framework per la rendering grafico 3d cioè ragazzi questo concetto c'è ovunque e qual è è la separazione tra le coordinate fisiche fisiche significa che io ho un oggetto il widget per esempio dove vado a disegnare che a sistema di coordinate che inizia in alto a sinistra inizia in 00 e poi finisce in vertice in basso a destra che rappresenta il numero di punti dello schermo non si parla più di pixel perché ormai gli schermi sono ad alta risoluzione si parla di punti però comunque sono parenti dei pixel voi potete immaginare come un sistema di coordinati fisico che prende i pixel appunto quindi 320 di larghezza 200 di altezza 00 è l'origine in alto a sinistra questo è il sistema di coordinate fisiche cioè che ogni punto è mappato su un punto dello schermo quindi c'è una corrispondenza bionivoca ok poi invece c'è il sistema di coordinate logiche ed è quello in cui si disegnano le cose quindi il painter non disegna in coordinate fisiche disegna in coordinate logiche e del resto ragazzi questo ha un senso perché ha un senso se noi dobbiamo fare un videogioco un videogioco per esempio come gta 1 che ha una vista dall'alto quindi è bidimensionale e si muove in uno spazio che ovviamente è più grande dello schermo mica si muove in uno spazio che va da 00 al numero di pixel si muoverà in uno spazio che andrà probabilmente da una coordinata meno 10 milioni 10 milioni a una coordinata che in altri milioni cioè gli sono i punti estremali del del mondo di esplorazione di gta questo normale solo per gta addirittura ci sono anche dei tutorial su youtube su su minecraft cioè anche in minecraft le coordinate logiche hanno un limite inferiore è un limite superiore raggiunti questi limiti andate nell'oltremondo che sembra una cosa tipo stranger things e comunque esiste un oltremondo in minecraft ma comunque dopo quell'oltremondo si sbatte con un muro che è praticamente il limite il limite logico delle coordinate quindi le coordinate fisiche sono quelle dello schermo ma ovviamente lo schermo è piccolo e non può contenere tutto tutta l'area di disegno specialmente in un videogioco le coordinate logiche invece sono quelle che noi decidiamo e quindi qua entriamo in modalità god tra virgolette siamo noi che dice decidiamo quanto è grande il nostro mondo in questo caso il nostro mondo va da meno 50 meno 50 più 50 più 50 quindi è un mondo fatto di cento per cento punti ok però potevamo farlo anche molto più grande possiamo fare anche meno 10 milioni più 10 milioni in quel caso sarebbe stato un mondo molto più grande il mapping tra il nostro mondo che definiamo in modalità dio god nelle coordinate fisiche dello schermo è fatto automaticamente quindi non dobbiamo preoccuparci noi programmatori come si settano le coordinate del mondo si settano con set window quindi set window setterà appunto il sistema di coordinate quindi il rettangolo dove vive il disegno quindi window è il mondo di disegno la tavola di disegno e viewport invece insomma rappresentano le coordinate l'area di disegno fisica che coincide con con il widget proprio con lo schermo il widget è mostrato sullo schermo in una determinata posizione ragazzi questa è una cosa importante ricordiamocela perché se la sbagliamo poi lo snack e ne manco lo vediamo quello vediamo troppo piccolo vediamo troppo grande quindi ricordiamoci che noi dobbiamo come prima cosa settare il sistema di coordinate del nostro del nostro gioco in quel caso anche nel 3d è così come dicevo prima facendo analogia con minecraft ci sono poi una serie di trasformazioni di cosa trasformazioni del nostro mondo appunto perché abbiamo adesso astratto il sistema di coordinate non è più è separato dal sistema fisico possiamo farci quello che vogliamo quindi possiamo traslarlo ruotarlo cambiare di scala distorcerlo ed è quello che si fa nei videogiochi ragazzi non ho quest'anno l'opportunità di farvi vedere come funzionano i videogiochi in 3d quindi rendere in 3d però vi posso dare uno spoiler anche perché quest'anno non ne parleremo che c'è una famosa puntata dei dei una citazione famosa presa da futurama in cui si dice che la navicella spaziale in realtà non è la navicella che va nello spazio tempo che viaggia attraverso lo spazio alla velocità superiore della luce ma in realtà è lo spazio che viene curvato tutto attorno alla macchia la navicella per far sì che la navicella raggiunga la destinazione che è un po un concetto un po preso da star trek e altre serie fantascientifiche è esattamente quello che accade nei videogiochi sembra una bestemmia ma quando il giocatore si sposta in un videogioco immaginate anche gta 5 red red redemption e tutti altri videogiochi che conoscete non siete voi che vi state spostando ma è il mondo attorno che si sta spostando attorno a voi e anche quello che vedete un oggetto più piccolo in lontananza che si avvicina diventa più grande non siete voi che vi state avvicinando ma è quell'oggetto che sta diventando proprio fisicamente più grande cioè proprio le le coordinate i punti di questo oggetto si stanno allontanando quindi gli oggetti vengono distorti in funzione di dove voi state nel mondo quindi è il mondo che si distorce e si sposta attorno a voi per darvi l'illusione che siete voi a muovervi in realtà è il mondo attorno a voi che si sta distorcendo e questo si può fare anche qui quindi possiamo distorcere il mondo per creare per esempio l'illusione di movimento se stiamo giocando ad un platformer possiamo spostare il mondo quindi fare una traslazione centrandolo sul sul giocatore per dare l'idea che sia mario a spostarsi nel livello di super mario ma in realtà è il mondo che si sta spostando lui è il perno lui è il centro ok ciascuna trasformazione tiene conto delle trasformazioni precedenti e queste possono essere combinate in sequenze quindi ovviamente se voi state facendo una rotazione dopo una traslazione state facendo in realtà una rototraslazione ok quindi bisogna tenere conto dell'ordine della sequenza di queste operazioni molto altro ve l'ho già detto se siete curiosi andate nella cartella di di examples sono progetti già preimpostati si aprono con il qt creator punto pro si aprono un doppio clic e aprite il progetto e lo compilate e a questo punto verrebbe l'esercizio che però oggi ovviamente non possiamo fare però lo faremo domani nella prima ora quindi dobbiamo implementare il gioco dello snake se vi va anche rimanendo fedeli a quelli che sono i colori del i colori i colori dello schermo del nokia a cui io e penso anche alcuno di qualcuno di voi avrà giocato sicuramente come si fa questo lo vediamo domani vediamo invece adesso l'altro possibile modo di implementare di implementare insomma di disegnare e animare soprattutto degli oggetti sullo schermo quindi vi presento il framework di qt chiamato graphics u questo è un framework che consente di di realizzare delle scene molto più complesse rispetto a quelle che uno potrebbe fare con con il metodo paint event cioè parliamoci chiaro se io implemento paint event significa che io devo disegnare tutto ma ma proprio tutto cioè immaginate un gioco come super mario e immaginate che questo paint event venga invocato ogni frame quindi abbiamo 60 frame al secondo quindi quindi ogni mille diviso 60 millisecondi quindi che quanto fa mille riso 60 mille diviso 60 ogni 16,6 periodico millisecondi devo verrà invocato il metodo paint event in cui io devo disegnare tutto e mazza quindi devo disegnare super mario il terreno tutto le texture mario devo animarlo tutto quanto in un metodo ma ragazzi questa non è una buona soluzione il paint event va benissimo se dovete disegnare un pulsante anche un gioco come lo snack alla fine è un gioco molto semplice quindi va anche bene questo tipo di applicazione ma se dovete fare invece una scena implementare una scena complessa che può essere la simulazione grafica di un algoritmo e oppure oppure l'air traffic come si chiama contro il project oppure la simulazione di una stazione ferroviaria oppure un videogioco e beh ci state un po stretti dentro questo metodo diventa un metodo di 5.000 righe di codice non è gestibile una cosa del genere l'alternativa l'alternativa è quella di usare appunto il graphics view framework cioè un modello è un framework che vi consente di visualizzare e soprattutto gestire anche milioni di oggetti in tempo reale cioè questa è la promessa del graphics view framework cioè che innanzitutto gestiamo oggetti mentre prima in cupenter noi dove stanno gli oggetti qua dove sono dice disegno il rettangolo disegno ma sì ma non è un oggetto il rettangolo cioè voi fate draw rect disegnate direttamente gli oggetti ma non li gestite appunto quindi non state gestendo milioni di oggetti e anche se ci provaste sarebbe molto difficile con il graphics view framework invece gli oggetti che sono sullo schermo diventano hanno proprio degli un corrispettivo nella programmazione di oggetti quindi mario sarà un oggetto il mattone sarà un altro oggetto pacman sarà un oggetto e le palle che si mangia pacman saranno un altro oggetto e fantasmini un altro oggetto il testo sarà un oggetto e che dire tutto quanto è un oggetto quindi questo ci è un po più familiare programmazione ad oggetti anche grafica finalmente questo è l'unione dei due paradigmi quindi posso disegnare quello che mi pare ma mi piace usare la programmazione oggetti perché del resto i videogiochi si fanno con gli oggetti la fusione di queste due cose porta a graphics view framework che cosa fa il graphics view framework separa tre diversi concetti separa la scena la scena è la scena è il mondo immaginatelo come il window del set del painter è la scena in cui vivono cosa vivono gli oggetti quindi questo sarà mario questo sarà che ne so sarà gumba no gumba la tartaruga ma magari la tartaruga ciali ali quindi è fatta del guscio e poi ciali ali che sono un oggetto che si anima in maniera separata quindi potrebbe anche un oggetto essere composto da più sotto oggetti e questa è la programmazione oggetti la composizione un oggetto può essere composto da componenti se non la programmazione oggetti che la facciamo a fare e va tutto bene perché ciascuno di questi è un oggetto un oggetto che era edita da q graphics item c'è un oggetto grafico questa è la funzione tra programmazione oggetti e disegno grafico oggetto item grafis grafico questi oggetti grafici devono vivere dentro una scena quindi vivono nel mondo vivono nella scena che significa vivere significa dove stanno in che punto stanno come si muovono si animano ci sono delle animazioni cose di questo tipo e poi sopra la scena si installa un visualizzatore un viewer una graphics view c'è una vista grafica quindi la scena rappresenta a livello logico un mondo in cui vivono gli oggetti ma a livello visivo cioè chi è che fa il rendering grafico qual è quell'oggetto che proprio fa vedere a schermo fa il mapping tra la scena e lo schermo questo è il graphics view il graphics view si occupa di fare il rendering quindi se la scena è troppo grande la vista si installa su una parte della scena e può ad esempio spostarsi seguendo per esempio personaggio un'altra cosa cosa che non potremmo fare con il painter qui invece la scena gestisce anche gli eventi quindi è possibile anche magari non in super mario ma in altri giochi è possibile dire io clicco su un oggetto della scena e questo viene registrato viene catturato nel painter invece no io disegno un rettangolo e poi ciao ciao quello non è manco più un oggetto non ci posso più cliccare cioè ci posso cliccare ma non succede niente e quindi non è interattivo questo invece è una scena opzionalmente cioè si può anche consentire all'utente di interagire con questa scena andiamo nei dettagli quindi cos'è un graphics scene come detto è il mondo dove vivono gli oggetti quindi un contenitore di oggetti della scena che sono gli oggetti grafici come si aggiungono con un metodo di ad ad item ci vuole molta fantasia gli eventi che vengono creati sulla scena come il click vengono propagati a ciascun oggetto bellissimo quindi non mi devo preoccupare io di dire dove ho cliccato ma in poi ci sono dei getter e getter come items che significa dammi la lista di tutti gli oggetti della scena e oltre a questi getter ci sono dei getter un po più intelligenti di questo questo significa darmi di tutti ci sono getter di tipo dammi tutti quelli compresi in questa regione dammi tutti quelli che si intessecano o intesse con uno degli oggetti dati quindi sono getter molto più sofisticati del semplice dammi tutti la scena a dimensioni fisse perché sono quelle del mondo è l'equivalente del set window del painter set scene rect definisce le coordinate del nostro mondo quindi di nuovo decidiamo noi dove l'origine del sistema chiaramente se noi diciamo 00 larghezza altezza l'origine del sistema di riferimento sarà il vertice in alto a sinistra se invece decidiamo meno 50 c meno 50 e poi 50 50 l'origine sarà al centro decidiamo noi dove fare questa origine tipicamente l'origine del sistema di riferimento è in alto a sinistra quindi tipicamente questo è 0 e questo è 0 vale anche per il window mentre v ed h sono tipicamente le dimensioni dell'area della scena di gioco è una scena 2d ricordiamocelo tuttavia consente tramite lo z value che si può settare e anche fare il getter quindi set z value get get z value consente di gestire una sorta di tridimensionalità però è sbagliato dirlo così consente di gestire cosa sta sopra gli altri a che serve questo server rendering cioè mario quando mario muore se vi ricordate e fa un'animazione che salta in alto va verso il basso si vede mario che cade e sta sopra il terreno quindi mario è un oggetto che deve stare sopra chiunque se non c'è mai un momento in cui mario viene nascosto no ci sono dei momenti quando mario entra nel tubo però appunto queste cose vengono gestite tramite z value cioè chi deve essere mostrato sopra a chi questa domanda viene risposta tramite il set dello z value il viewer cosa fa il graphics view beh il viewer ve l'ho detto si occupa del rendering grafico visualizza la scena quindi si deve settare si deve installare su una scena come si fa con il set scene quindi dato un viewer si setta la sua scena prendendo una scena data che è stata precedentemente creata la cosa carina che più viste possono essere attaccate alla stessa scena e questo mi fa pensare per esempio una cosa che potrebbe adesso qua non una soluzione che hanno usato i ragazzi di super mario quando hanno implementato il super mario bros 3 in realtà questo non vale solo per super mario bros 3 vale per tutti i giochi in cui c'è un HUD cos'è un HUD ragazzi è una parte dello schermo che rimane fissa che mostra le vite i punteggi il tempo rimanente eccetera ora mentre la parte sovrastante scorre nella scena principale la parte sottostante invece è fissa sta lì non si deve muovere un modo per fare questa cosa è avere una scena in cui l'AD sta in un certo punto della scena ma quello che mostro qui nel gioco sono due viewer un viewer sopra che segue Mario e un viewer sotto che invece sta osservando solo un particolare una particolare porzione della scena quella in cui si trova l'AD quindi l'AD viene comunque disegnato come parte della scena ma sta in un certo punto magari nascosto sta nel cielo in alto a sinistra ragazzi questi sono trucchi che si usano nella programmazione dei videogiochi e quindi c'è un viewer che si installa su questa parte della scena e un altro viewer che invece segue Mario quindi è come se è comodo avere la possibilità di installare più di un viewer sulla stessa scena magari c'è un viewer che segue a Mario un viewer che sta su l'AD e che ne so l'altro viewer che cosa fa comunque c'è questa possibilità in più il viewer è arrivando da qua abstract scroll area praticamente consente di contenere una scena che è più grande dello schermo ovviamente altrimenti a che servirebbe quindi di default aggiunge delle scrollbar però si possono anche disabilitare è brutto vedere le scrollbar in Super Mario e allora a quel punto se la scena è più grande bisogna fare tramite translate la traslazione della scena per far vedere che si sta seguendo un personaggio oppure si può usare un metodo predefinito che è center on center on farà sì che il viewer si centra su un determinato elemento della scena per esempio il personaggio principale lo scroll avviene automaticamente quindi il viewer il visualizzatore segue questo personaggio che si muove all'interno della scena e questo si usa per Super Mario non lo useremo in Pac-Man perché nel Pac-Man la scena la vediamo tutta quanta non c'è uno scroll nella scena così come nel painter ci possono essere anche qui trasformazioni geometriche che si applicano tramite la classe Q-Transform e ci sono metodi di mapping dalla scena viewer cioè questa coordinata del viewer a cosa corrisponde nella scena oppure viceversa quindi di nuovo il mapping tra lo schermo e la scena viene gestito automaticamente e opzionalmente si può anche chiedere qual è questa funzione di conversione arriviamo all'ultimo elemento quindi l'elemento grafico che poi è poi quello che noi manipoliamo perché nei nostri giochi quante scene avremo? una quante viewer avremo? beh in Super Mario 2 in Pac-Man una quindi una scena un viewer quindi avremo due classi e due oggetti quanti invece Q-Graphics Item avremo? e beh ne avremo uno per Pac-Man uno per il fantasmino ci sono quattro fantasmini quindi quattro quindi siamo a cinque uno per ogni pallina la pallina che mangia Pac-Man quindi quante palline ci sono più di un centinaio quindi già siamo a cento passa elementi eccetera eccetera quindi ogni elemento visualizzato nella scena è un oggetto della classe Graphics Item Graphics Item è una classe astratta è la super classe da cui poi ereditano le classi concrete per esempio quelle che disegnano rettangoli Graphics Rect Item quelle che disegnano testo per esempio nel Pac-Man ci sta il punteggio sicuramente quello sarà un Graphics Text Item e poi ci sono quelle forse di più grande interesse per chi vuole fare videogiochi Graphics Pics Map Item cioè oggetti che sono associati a delle texture e sono oggetti grafici quindi per esempio Mario è una Q-Graphics Pics Map Item perché Mario non è un rettangolo, Mario non è un testo, Mario non è un poligono Mario è una texture e in particolare questa texture noi la prendiamo da internet cosa fa in più Graphics Item per noi e questo è molto importante gestisce le collisioni ora ragazzi il mondo delle collisioni è un mondo si dovrebbe fare un corso apposta per le collisioni e in effetti io vi do per chi è curioso non perché vi chiedo di andare a studiarlo vi do nel... ci sarà un modulo di approfondimento? sì, in collision detection c'è un libro di quante pagine? è un libro veramente ben fatto, uno dei migliori il cui titolo è Real Time Collision Detection cioè come fare individuare le collisioni in tempo reale ovviamente nei videogiochi il tempo reale è un requisito del sistema non possiamo aspettare 10 secondi prima di capire se Mario ha sbattuto su un nemico eccetera e vabbè ragazzi è un libro di 633 pagine di cui c'è un capitolo che vi segnalo in particolare che è quello da cui ho preso poi un paio di slide che ho tentato di spiegare gli anni precedenti ma la verità è che non si può capire la gestione delle collisioni complessa perché quella che chiedono i progetti di Super Mario non è questa, attenzione non la si può spiegare in due slide serve un corso a parte uno dei modi per risolvere questa gestione delle collisioni è utilizzando... è solo uno dei modi ragazzi uno dei possibili modi è utilizzando gli alberi di partizionamento spaziale Banner Space Partition Trees non ve lo spiego quest'anno non ci provo nemmeno perché non lo capite e avete ragione che non lo capite perché non si può spiegare in due slide quindi queste due slide ci sono solo per dirvi guardate nel libro ci sta un capitolo che si chiama così che lo spiego ovviamente molto meglio di come ho spiegato io contiene anche del codice in C++ è un libro che contiene tutto codice in C++ perché ragazzi queste cose si fanno in C++ non si fanno in Java, non si fanno in Python in real time si fa solo e esclusivamente in C++ qual è la buona notizia però? che Qt implementa la gestione delle collisioni basata su alberi di partizionamento binario spaziale così come sono spiegate in quel libro e ciò da gratis cioè noi usando Qt usando i graphics più framework abbiamo la possibilità di gestire le collisioni senza dover noi implementare il gestore delle collisioni cosa che invece i ragazzi di Super Mario dovranno fare quindi se noi potessimo usarlo questo gestore delle collisioni e lo useremo per Pacman possiamo per esempio avere la lista di tutti gli elementi che stanno collidendo in quel momento oppure possiamo chiederci ma l'oggetto corrente quindi siamo in un oggetto corrente sta collidendo con un altro oggetto? ragazzi questi sono tutti dei metodi che ci consentono di risolvere le collisioni che significa risolvere le collisioni? significa che se adesso io prendo Super Mario 3 che abbiamo riprenditato l'anno scorso e ci siamo scendelati non poco per gestire le collisioni perché Super Mario 3 è più complesso di Super Mario 1 nella gestione delle collisioni significa ragazzi il volume lo devo togliere quello che state vedendo in questo momento questi rettangolini rossi sono i collider cosa sono i collider? i collider sono degli elementi geometrici associati a ciascun oggetto grafico della scena che determinano cosa succede quando gli oggetti si intersecano o meglio il fatto che Mario saltando atterri sul terreno e ci possa camminare sopra è dovuto al fatto che ci sono dei collider ovvero Mario il collider di Mario è un banale quadrato il collider di questo terreno è un rettangolone quando questi due rettangoli a un certo punto si intersecano quando Mario sta cadendo questa intersezione provoca una compenetrazione e le compenetrazioni nei videogiochi sono assolutamente da evitare anzi a volte si vedono queste cose sono dei bug a volte sono dei glitch che consentono di fare gli speedrun se qualcuno di voi è appassionato di speedrun cos'è lo speedrun di videogioco significa finire andare dall'inizio alla fine del gioco nel minor tempo possibile giochi in single player ovviamente gli speedrunner sfruttano i glitch di compenetrazione per saltare delle aree del livello per esempio ci sta una porta chiusa che si sblocca solo se io vado a fare chissà cosa ma sfruttando la compenetrazione a un certo punto il giocatore si ritrova dall'altra parte della porta e quindi è come se stesse tagliando la sceneggiatura del videogioco salta tutta una sequenza di cose che avrebbe dovuto fare e questo gli dà il record dello speedrun quindi noi le compenetrazioni noi e tutti i programmatori di videogiochi le vogliamo evitare e ovviamente l'unico modo è gestire in maniera ottimale i collisori, i collider ora i collider di un gioco possono essere di tipo semplice ovvero la cosa più semplice sono i rettangoli e in effetti quelli di Super Mario anche del Super Mario originale e anche quelli di Pacman sono tutti rettangoli quindi anzi Pacman non aveva i collisori Super Mario sì sono tutti rettangoli quindi l'intersezione tra rettangoli ragazzi è banale se invece sono forme anche convesse beh appunto è il motivo per cui si mettono in piedi dei sistemi come questi complessi per capire come collidono e quando collidono forme anche convesse quindi poligoni generici quindi la gestione delle collisioni è un problema complicato in Qt c'è un gestore delle collisioni devo dire la verità dopo tanti anni che lo abbiamo usato nei nostri progetti non è fatto benissimo del resto Qt non è pensato per realizzare videogiochi ci si può fare un Super Mario ovviamente con un po' di fatica ma non ci si possono fare chissà quali altri videogiochi complessi quindi comunque videogiochi semplici in 2D però la gestione delle collisioni devo dire la verità non mi ha soddisfatto e non ha soddisfatto i ragazzi che l'hanno utilizzata ci sono dei problemi che con la pratica poi emergono è inutile stare qui ad elencarli però comunque c'è questo strumento il collisore si può settare o prendere getter tramite il metodo shape quindi shape o set shape shape restituisce il collisore kupe interpath e questo metodo è virtuale quindi si può fare l'override quindi se io ho bisogno di un collisore più piccolo perché questo lo faremo probabilmente in pacman io non voglio che quando che ne so il naso di Mario tocca il naso della tartaruga questi vanno in collisione è troppo presto nel gioco originale si accetta un minimo di compenetrazione altrimenti il giocatore ha l'impressione che basta sfiorare il nemico e muore Mario lo sfioramento non è cosa buona perché gioca a una certa velocità quindi il giocatore si arrabbia se perde solo perché sfiora i nemici ci vuole un minimo di compenetrazione e bisogna accettarla e questo si modella con dei collisori tipicamente che sono più piccoli del personaggio quindi magari un rettangolo che addirittura sta dentro il corpo di Mario o dentro pacman come si fa a definire un collisore custom tra virgolette beh questo è un metodo virtuale si può reimplementare quindi si può dire il mio collisore è un rettangolo di 10x30 centrato quello è e quello deve essere se invece non siamo noi a definire il collisore ma lasciamo che Cuti lo faccia per noi allora possiamo definire delle modalità di definizione del collisore automatico che sono tipicamente bounding rect e mask shape il bounding rect fa una cosa molto ignorante questa è la texture questo è il collisore cioè praticamente il collisore è il rettangolo della texture e devo dire abbastanza naif come approccio anche perché il collisore diventa addirittura più grande del personaggio stesso e quindi hai voglia a te altro che sfiorare qua praticamente senza nemmeno toccare il nemico Mario muore e questo non ci piace molto e poi c'è invece il collisore è un po' più carino che sfrutta praticamente la parte opaca della texture cioè la texture si può rendere trasparente ovvero si può dire che questo è sfondo e allora il collisore diventa proprio il contorno di Mario questo però ha dei effetti i collisori così complessi in assoluto sono più lenti cioè il gioco va più lento perché proprio la gestione delle collisioni diventa più problematica questi sono delle forme appunto complesse che hanno bisogno degli strumenti complessi beh questo non lo facciamo e non ci interessa sinceramente in Pac-Man e in Super Mario non serve questo tipo di complessità però immaginate i videogiochi a quelli che vi piacciono i videogiochi di AAA beh immaginate voi che ne so di sparare attraverso una catena avete mai avete mai provato in un videogioco avete mai incontrato chain shoot collider vediamo se trovo qualcosa su internet spero di non trovare così zozze beh forse esagerato comunque quello che vi voglio dire è che anche una rete non solo una catena net videogame collider beh a volte mazza non sto trovando niente di interessante nei videogiochi soprattutto quelli trimensionali le forme sono così complesse che anche i collider devono seguire questa complessità ora tipicamente ragazzi il collider non è l'oggetto stesso sarebbe da pazzi cioè se l'oggetto il personaggio ha con tutta la sua armi che ne so 10 100.000 poligoni 100.000 triangoli non possiamo fare un collider uguale perché gestire un collider con 100.000 triangoli è da pazzi quindi i collider sono comunque una approssimazione della forma dell'oggetto però più è accurata questa approssimazione più è accurata la collisione quindi se io sparo a questo se il collider sono queste cose verdi e io ci sparo attraverso qua in questo punto non colpisco il personaggio e questo mi piace perché è reale se invece il collider è un banale rettangolo che include tutto il personaggio io anche sparando nell'aria lo becco e ragazzi questa è la differenza tra un videogioco fatto in un modo e un videogioco fatto in un altro tipicamente queste cose vengono recensite nelle recensioni si dice è però questo gioco è carino però le collisioni insomma provando a sparare per esempio qui io becco la testa invece non è così che deve essere quindi il collisore è un compromesso tra anche il collisore va gestito in real time quindi non è solo la grafica e il videogioco ma anche la gestione delle collisioni si deve sempre fare un compromesso quindi se ho delle bellissime texture magari se non ho abbastanza potenza l'ho usata tutta per la grafica devo sacrificare un po' di precisione nel collisore viceversa se ho una gestione delle collisioni quasi a livello di simulazione fisica non potrò poi usare tutta la potenza computazionale per una grafica perfetta quindi sono un po' le due anime dei videogiochi la gestione delle collisioni e la gestione grafica e poi anche le animazioni questa forse è la terza anima cioè con quale velocità cambiano le grafiche del gioco bene questo è quanto non c'è molto altro da dire c'è da fare questo non lo facciamo perché non è non fa per noi quest'anno e gli anni prossimi soltanto questo vuole essere un puntatore al capitolo del libro per farvi capire come si può implementare un gestore di collisioni generico quindi per qualunque forma non solo rettangoli che invece è quello che faranno i ragazzi del progetto di Super Mario poi a questo punto noi nel 2018 abbiamo implementato Super Mario Bros 1 quindi abbiamo implementato praticamente questo no no questo è Super Mario 18 abbiamo implementato e penso di sì dobbiamo implementare tutto quel livello ma penso che ci siamo fermati molto prima adesso non ricordo esattamente dove ci siamo fermati questo è quello che abbiamo fatto nel 2018 cioè siamo riusciti a fare Mario che fa questo che rompe il che rompe il mattoni abbiamo fatto Goomba il funghetto e poi abbiamo fatto il fine livello e basta questo è quello che abbiamo fatto in dieci ore di implementazione questo ragazzi vi fa capire quanto è complicato mentre l'anno scorso abbiamo fatto Super Mario 3 tra l'altro non siamo partiti da zero quindi nemmeno partendo pur partendo da qualcosa che non era zero non siamo riusciti a rimplementare tutto quel primo livello mentre Super Mario 3 l'anno scorso di nuovo non partendo da zero siamo riusciti a fare a fare questo in particolare qua la sfida quello che ci ha fatto scelvellare era in Super Mario 3 ci sono questi blocchi qui e se io ci sbatto da sotto non succede niente ma se ci attergo ci attergo cioè c'è una sorta di comportamento non in profondità che ci ha ci ha fatto davvero davvero scelvellare e vabbè questo è stato ci sono effetti di profondità cose che in Super Mario 1 non c'erano questo ci ha sicuramente fatto scelvellare quindi nel 2019 Super Mario 3 nel 2020 quest'anno noi facciamo Pac-Man sembrerebbe una cosa più semplice a occhio Pac-Man sembra molto più semplice di Super Mario non è per niente vero mano a mano che faremo Pac-Man ci renderemo conto che in realtà nasconde delle insidie e lo rende perfetto per farvi capire le difficoltà della programmazione di un videogioco che in apparenza è semplice ma in realtà non è così in più Pac-Man ci consente di fare un'altra cosa quest'anno ci consente di implementare un'intelligenza artificiale per i fantasmini cioè i fantasmini nel gioco originale non seguono Pac-Man in maniera ottimale nel nostro videogioco invece dovranno seguire il percorso più breve sfruttando la teoria dei grafi questo porterà a implementare un Pac-Man che sarà difficilissimo infatti l'anno scorso l'ho assegnato come progetto chiamandolo Impossible Pac-Man perché sfido chiunque di voi a vincere un livello in cui i fantasmini seguono Pac-Man in maniera ottimale circondandolo addirittura da più parti sarà praticamente impossibile vincere chi di voi vince vi do 30 all'ode ma nessuno vi assicuro sarà in grado di vincere questo lo faremo quest'anno quindi implementeremo magari non tutto Pac-Man magari solamente un fantasmino e ovviamente Pac-Man e ovviamente il livello e tutte le meccaniche di gioco e poi implementeremo sicuramente il percorso più breve quando arriveremo a spiegare i grafi quindi per la prima volta quest'anno la parte sui grafi avrà una controparte pratica e non rimarrà solamente teoria chiudo qui grazie a tutti